Amici di Telelibera, ben trovati da Siberi. Oggi si parla di gestione delle aree costiere in questo forum, una a due giorni, che va dal 12 al 13 maggio e si parla in modo particolare del progetto MED 4 EBM. Dunque, 12 e 13 maggio a Siberi, in provincia di Cosenza, evento di bilancio del Mediterraneo Forum for Aplied Ecosystem Management, promosso dal progetto Mediterraneo Forum for Aplied Ecosystem Base Management, finanziato dal programma ENI CBC-MED nell'ambito della Cal4 Standard Project, è giunto al suo terzo anno di attività. Ha promosso un confronto con tutti gli attori locali sulla gestione ecosistemica delle aree costiere attraverso un workshop partecipativo e con il supporto di strumenti tecnologici innovativi. Il parteneriato coinvolge quattro aree rispettivamente in Giordania, Libano, Tunisia e Italia, dove l'indagine si concentra in modo particolare nel golfo di Corigliano Calabro, nell'area della Sibaritide. Uno strumento, il Forum in agenda, uno dei prodotti del progetto, rappresenta uno strumento permanente mediterraneo in cui i partner di MED 4 EBM e la loro rete di Stalker Holder propongono di scambiarsi idee e proposte di esperienza sui servizi ecosistemici e sull'applicazione della gestione integrata delle zone costiere, offrendo anche servizi di consulenza e di formazione. Il progetto MED 4 EBM interviene in particolare su quattro aree costiere delle nazioni che abbiamo appena citato e quindi Giordania, Italia, Libano e Tunisia con l'obiettivo di sviluppare una metodologia comune per rendere la gestione integrate delle zone costiere molto più facile da elaborare ed implementare. La svolta avviene attraverso tecniche e metodi innovativi. Innanzitutto si introduce uno strumento software programmato per aiutare gli attori istituzionali da un lato a gestire meglio i complessi processi analitici multi-stalker holder che caratterizzano le applicazioni di EBM e dall'altro a valutare le relazioni tra componenti, funzioni, servizi dell'ecosistema e attività umane che sono chiaramente associate. Il successivo step progettuale poi fornisce a funzionari e dirigenti pubblici gli strumenti, le capacità e le competenze necessarie per sviluppare e attuare approcci ecosistemici alla gestione delle attività negli ambienti marini e in quelli costieri. Parliamo dei beneficiari del progetto, sono attori e parti interessate alla gestione delle aree costiere e marine pilota, ovvero autorità e istituzioni pubbliche, istituzioni scientifiche e associazioni, nonché le popolazioni locali. Il progetto in questione è un progetto di parteneriato finanziato dal programma ENI-CBC-MED 2014-2020. Lo scopo? Il progetto mira a promuovere la gestione ecosistemica integrata delle zone costiere e marine, valorizzando le capacità e le conoscenze dei vari stalk holder e attori istituzionali coinvolti nella gestione di tali zone e ad istituire una piattaforma di cooperazione e di coordinamento. Le istituzioni e le altre parti interessate alla gestione ecosistemica integrate potranno avvalersi di questa piattaforma come supporto per prendere decisioni informate e in tempo reale sulla pianificazione e la gestione delle risorse costiere e marine, coordinandosi in modo efficace sul campo. Il progetto si sviluppa, come abbiamo detto, in quattro paesi del Mediterraneo, l'area interessata per il progetto in Italia e il golfo di Corigliano Calabro nella Sibaritide. Il progetto propone l'utilizzo di strumenti innovativi per affrontare le principali questioni che spesso limitano l'effettiva applicazione della gestione ecosistemica integrate nelle zone marine e in quelle costiere. Le maggiori difficoltà vanno incontro decisori, politici e stakeholder coinvolti nell'applicazione delle BI derivano spesso da alcune tipologie di criticità. Sono la necessità di sforzi intensi e continui per coordinare le azioni di gestione in un'ampia gamma di stakeholder, ad esempio enti amministrativi e agenzie governative, programmi e progetti internazionali, programmi e progetti sociali e associazioni economiche e settori di applicazione, ad esempio la pesca, il turismo, i trasporti, la biodiversità, la conservazione. Intenso il lavoro da parte del gruppo di professionisti che attuano le BIES con particolare riferimento all'adeguamento degli orientamenti disponibili alle disponibilità dei diversi orientamenti ecologici e sistemi socio-economici nonché nel renderli operativi per la loro effettiva applicazione in aree di interesse. Necessità di raccogliere e gestire una quantità significativa di dati attraverso basi di dati complesse. Ma adesso cerchiamo di saperne di più dai protagonisti di questo forum. Con noi il dottor Agostino Brusco che è direttore delle riserve naturali regionali Lago di Tarsia, Fiume, Crati. Oggi un appuntamento importante con questo forum per fare un po' il punto sulla situazione. In modo particolare si parla del porto di Corigliano ma della Sibarite in generale. Sì, abbiamo ringrazio la Direzione Nazionale degli Amici della Terra che hanno promosso questo progetto a livello internazionale dove vede impegnati la Giordania, il Libro, l'Egitto e noi per l'Italia. Ringrazio per aver scelto proprio il Golfo di Corigliano dove hanno sede le riserve naturali regionali della foccia del Fiume Crati che noi gestiamo. È un progetto sulla gestione integrata delle aree costiere per mettere a punto modelli applicativi sulla gestione integrata delle fasce costiere. Ho rimarcato anche nel mio intervento l'importanza, lo straordinario patrimonio della foccia del Fiume Crati e del ruolo che riveste in questa parte di territorio, in questo mare, con queste spiagge che a differenza di altre aree continuano a crescere proprio per il ruolo che il Crati ha. È questa straordinaria biodiversità che si manifesta non soltanto in tanti settori, parliamo su pesci, rettili, anvibbi, uccelli che hanno la componente ma soprattutto anche importante sul paesaggio. Questo ci rende molto orgogliosi ma anche dal punto di vista ci impegna molto perché, come dicevo prima nell'intervento, le riserve detengono il 50% del capitale naturale delle specie di interesse comunitarie che sono censite, sono rilevate in Calabria. Sicuramente è un progetto che responsabilizza particolarmente quest'area perché è l'unica scelta in Calabria a livello internazionale. Sì, questo sì, è chiaro. Questa è l'unica prima volta che viene applicato questo tipo di form, questo progetto, questo form anche in Calabria ed è soprattutto la gestione integrata che non riguarda se riguarda l'ambiente, riguarda le risorse, ma riguarda l'economia, riguarda il turismo. Ecco, mettere a fuoco dei protocolli per la gestione e per il miglioramento. Su questo poi magari chi segue il progetto dell'area nazionale entreranno nel merito specifico del progetto. La riserva, diciamo, la riserva Foce del Crati è un modo, diciamo, importante anche attraverso questi progetti che riguardano su aria vasta non soltanto la Foce ma tutto il Golfo di Corigliano e può ottenere dei benefici proprio per la gestione delle risorse naturali. Oggi sono presenti i rappresentanti delle nazioni che abbiamo citato nella premessa? Sì, sono presenti queste Giordania che è del settore dell'ONU, poi i rappresentanti di parchi e riserve marine del Libano, dell'Egitto dove hanno potuto osservare, dove hanno potuto vedere, diciamo, a parte gli aspetti progettuali che seguono ma anche, diciamo, questo territorio. Un confronto e un incontro? Questo territorio che non è solo natura ma è anche cultura perché la Sibaritide, diciamo, è un sito a livello mondiale. È un marchio identitario a livello mondiale. Sì, sì, grazie. Approfondiamo un po' il discorso su questo importante progetto internazionale con Tommaso Frangi che è il direttore nazionale degli Amici. Sì, grazie. Questo progetto è un progetto di cooperazione internazionale che coinvolge anche aree protette marine della Tunisia, del Libano e della Giordania che sono gemelle alla nostra riserva naturale regionale di Tarsia e Crati in particolare per la parte della foce del Crati. L'obiettivo è sviluppare dei metodi comuni, di analisi dei dati che consentano in modo georeferenziato di valutare le politiche e gli interventi di tutela dell'ambiente in questi territori. Questo progetto ha anche una sua parte specifica proprio calabrese perché prevede il lancio, e questo è l'evento dedicato proprio a questo, di un forum sull'applicazione, quindi un centro di formazione e promozione proprio della gestione integrata delle zone marine costiere. E questo in prospettiva può significare anche sviluppo economico e anche occupazionale? Sicuramente è un'enorme opportunità, però è un'opportunità molto importante anche perché è proprio vocata a valorizzare le specificità di questo bellissimo territorio. Oggi qui a Sibari un incontro internazionale? Sì, è un progetto di cooperazione euro-mediterranea promosso dall'Unione Europea e interverranno anche i partner tunisini del Libano, la riserva di Tiro, antichissima città fenicia, insomma potremmo in qualche modo paragonarla a Sibari come importanza nell'antico Mediterraneo, e i colleghi di J-RED che è l'istituzione che in Giordania si occupa delle aree protette. Da questo confronto di idee anche un rapporto di collaborazione? Esatto, noi puntiamo a coinvolgere anche loro in questo forum per la promozione della gestione integrata marino-costiera e allargarlo anche ad altri soggetti interessati, però a partire, e noi siamo contenti che oggi qui c'è il Sindaco e il Presidente dell'ARPACAL perché speriamo di coinvolgerli in questa attività. Sibari, Sindaco, passa al centro di un forum internazionale, una giornata importante per il nostro territorio. Sono felicissimo, ho ringraziato gli amici dell'Associazione Amici della Terra per aver scelto Sibari come sede, luogo di un loro incontro internazionale, peraltro per un forum sulle qualità delle acque marine, sulla costa, sulla biodiversità, eccetera. È quello che volevamo, Sibari deve divenire il centro propulsore dello sviluppo socio-turistico-culturale del nostro comune, e stiamo lavorando da tempo, valorizzando ciò che abbiamo di bello, di importante sul nostro territorio, il parco archeologico, il Museo Nazionale della Sibaritide, il mare di Sibari pulitissimo, brillante, la spiaggia dorata di Sibari, ma soprattutto la riserva naturalistica del Crati e della foce del lago di Tarsia. Il suo ecosistema è un punto cruciale di questo appuntamento? Il bravissimo Agostino Brusco ha avuto modo di tenere una relazione e ci ha comunicato quelle che sono le qualità di questa riserva, ma soltanto le potenzialità e cosa contiene la riserva stessa. Io sono veramente contento e soddisfatto, sono intervenuto a portare il saluto della città, dell'amministrazione comunale di Cassano in questo importante forum, e stamattina diciamo che Sibari è al centro del mondo, perché a questo incontro internazionale partecipano anche i rappresentanti dei paesi stranieri che abbiamo ospitato con grande cordialità, con grande affetto, e da Sibari parte questo messaggio importante della tutela dell'ambiente, della tutela del nostro mare, delle nostre coste e del nostro patrimonio storico, turistico e culturale. Un appuntamento internazionale, come dicevamo, che chiaramente contribuisce anche a promuovere questo territorio, fa da marketing territoriale. Indubbiamente, io nel portare il saluto ho parlato di Cassano, succedamente, ho detto che Cassano è un territorio meraviglioso, che parte alla collina, arriva al mare, abbiamo 7 km di costa, il nostro mare è pulitissimo, perché noi caparbiamente stiamo lavorando ad una perfetta gestione degli impianti di depurazione e in questi giorni la notizia è che per tutte e sei impianti abbiamo il certificato all'autorizzazione allo scarico e l'autorizzazione allo scarico si concede quando gli impianti funzionano e in questi giorni è anche una grossa azione da parte dell'amministrazione comunale per la tutela ambientale, per la demolizione di immobili abusive, per recuperare il suolo pubblico e mettere a disposizione della comunità. Il fatto stesso è che noi stiamo spingendo in maniera forte per far sì che la ricorta differenziata possa raggiungere sempre livelli maggiori. Abbiamo ereditato che la raccolta era al 39%, adesso siamo al 70%. Insomma, tutto un percorso di tutela del nostro territorio che stiamo facendo con grandi sacrifici, molto spesso, qualche volta non veniamo capiti, però la grande maggioranza della città, dei cittadini, ci riconoscono questo nostro agire. Il nostro agire che è riconosciuto anche da parte dei cittadini e dei paesi della cintura del Comune di Cassano, ma non solo, della provincia e della regione. Sindaco, questo significa che quando si lavora per salvaguardare, per tutelare l'ambiente e il territorio, paga, c'è un ritorno? Non ci sono proprio dubbi, bisogna... ma chi viene eletto sindaco, chi è chiamato a ruolo istituzionale, ruolo di assessore, di rappresentante consigliare, viene eletto dalla comunità, deve impegnarsi per tutelare il territorio, lo deve salvaguardare, lo deve apprezzare e soprattutto lo deve amare. Non deve consentire che del territorio stesso si possa fare un uso distorto, smodato, un uso anche con una certa cinicità privata. Invece il territorio va tutelato e la prima cosa la deve fare l'amministrazione, la prima tutela la deve esercitare il sindaco per abituare tutti gli altri a tutelarlo. E approfondiamo il discorso su questo forum internazionale qui a Sibari, sul progetto che mira a promuovere, come abbiamo già detto, la gestione ecosistemica integrata nelle zone costiere e marine, valorizzando le capacità e le conoscenze dei vari attori che sono co-interessati. Con noi, l'orevole Vimo Pappaterra, che è direttore generale dell'ARPACAL ed è il presidente del Parco Nazionale del Pollino. Cosa pensa di questa iniziativa? Devo dire che è un'iniziativa di altissimo livello tecnico, scientifico e soprattutto l'Associazione Amici della Terra, che è una delle centrali ambientaliste del nostro paese più rappresentative, mette a disposizione della Calabria, in questo caso di tutto il territorio che afferisce al Golfo di Corigliano, gli mette a disposizione una piattaforma molto importante ai fini della tutela di tutto il sistema di biodiversità che in questo territorio è presente. Noi come ARPA abbiamo sin da subito aderito a questo progetto perché abbiamo stipulato di fatto una sorta di convenzione, un protocollo d'intesa perché ovviamente all'interno di questa piattaforma poi vanno caricati un po' tutti i dati sulle varie matrici ambientali e l'ARPA che fa, come dire, per legge questo lavoro di controllo e di monitoraggio e quindi di verifica puntuale di tutte le matrici, come dire, su questa piattaforma la utilizzerà proprio finalizzata al rafforzamento dei dati ambientali. Quindi è nato un bel sodalizio con la Presidente Monica Tommasi che insomma con la quale già da tempo io da Presidente del Parco avevo instaurato dei rapporti, però oggi questo simposio qui a Siber in questa splendida location è la dimostrazione che si può fare un lavoro importante. Un sito di eccellenza in modo particolare, le riserve naturalistiche del Crati e del lago di Tarsia per la Calabria e quindi è un marchio identitario anche per promuovere questo territorio. È un marchio identitario, devo dire che nella riserva si sta facendo anche qui, fatemi dire, un ottimo lavoro perché c'è un ottimo direttore, Agostino Brusco, che è un giovane professionista che fa il suo lavoro con grande passione e devo dire che ormai anche la riserva è inserita pienamente nel sistema delle aree protette calabresi, sia quelle terrestre sia quelle marine. Noi come sapete abbiamo una terra ricca di territorio protetto qui in Calabria perché ci sono tre parchi nazionali, il Pollino, la Siria e la Spromonte, c'è il Parco regionale delle Serre nelle grandi montagne del Vibonese, del Catanzarese e poi ci sono diverse riserve, c'è quella di Isola Caporizzuto, un'altra splendida riserva e poi c'è questa riserva qui della Foce e del Fiume Grati che ormai è un punto importante dove appunto sono presenti specie sia di flora che di fauna che meritano di essere tutelati e conservati e la riserva sta facendo sotto questo profilo un grande lavoro. Questa rete internazionale che cosa porterà? La rete internazionale serve non solo per uno scambio di esperienze, io credo che ormai non si può più ragionare da soli ma su ogni fronte. Questo progetto, il suo valore che è un progetto che ha riconosciuto l'Europa, è stato finanziato a livello europeo ma perché c'è stata questa capacità di mettere insieme paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che da questo punto di vista rappresentano come dire anche delle potenzialità importanti. quindi bisogna fare sistema ormai su tutte le questioni, quindi oggi avere qui a Sibali in questi due o tre giorni di lavoro persone che arrivano dalla Giordania, dal Libano, da tante altre parti delle sponde del Mediterraneo può essere assolutamente importante anche perché lo diciamo tutti quanti noi, la Calabria è una sorta di avamposto sul Mediterraneo, abbiamo il dovere di tutelare tutti gli ecosistemi che noi abbiamo che sono straordinari, noi lo facciamo anche attraverso il centro regionale di strategia marina e quindi questi rapporti, come dicevi tu, meritano di essere rafforzati perché credo se ne trae giovamento anche noi. Una riflessione su questa magnifica iniziativa messa in campo dall'Associazione Amici della Terra con altri partner, una iniziativa a livello internazionale con l'assessore all'ambiente del Comune di Castano Ionio, Leonardo Sposato. Sì, buongiorno a tutti, stamattina sono orgoglioso di aver conosciuto innanzitutto la Presidente nazionale di Amici per la Terra che ha organizzato questo bellissimo evento e soprattutto sono orgoglioso in qualità di amministratore del Comune che l'Associazione Nazionale ha scelto Sibali come sede per organizzare questo meeting internazionale che prevede la gestione integrata delle coste marine quindi quando si parla di ambiente si parla anche della gestione delle coste marine. Sibali è il centro di iniziativa del Mediterraneo, quindi una centralità importante? Assolutamente sì, infatti per questo siamo orgogliosi ed onorati perché comunque Sibali, quando si parla di Sibali, Sibali come dice sempre il nostro sindaco è il centro del mondo conosciuto da tutti quando si nomina Sibali Sibali è dappertutto, ma il fatto che comunque questa associazione abbia scelto Sibali anche perché noi abbiamo un ecosistema bellissimo, qui a due passi abbiamo la foce naturalistica del Crati che è una delle bellezze naturalistiche secondo me più belle della Calabria ma anche del Meridione. Soprattutto per l'interesse che riveste? Assolutamente, tutto l'interesse naturalistico che riveste è di grandissima importanza ma la cosa più importante che oggi vedo è che questa associazione, comunque questo progetto che è mirato alla gestione delle locali sistema riguarda anche altre realtà internazionali come abbiamo presenze del Libano stamattina qui a Sibali, della Tunisia e quindi non può farci altro che piacere, siamo onorati di tutto questo. Noi come Comune non abbiamo potuto fare altro che comunque constatare questa bellissima iniziativa e promuovere insomma la tutela dell'ambiente perché è quello che noi facciamo anche giornalmente come ci ha citato anche il sindaco nel suo intervento, noi possiamo dire che abbiamo un mare bellissimo tutelato nei nostri sei depuratori comunali che funzionano alla perfezione e quindi insomma, che dire, abbiamo un territorio fantastico e questo lo dobbiamo dire a voce alta. Il risultato della grande attenzione è che l'amministrazione riveste e impegna appunto per la tutela del territorio e dell'ambiente. Assolutamente sì, Mimmo, noi ci battiamo dalla mattina alla sera per rispettare e tutelare l'ambiente quindi nei sette chilometri di costa soprattutto cerchiamo di essere all'avanguardia e rispettare tutti i requisiti possibili e immaginabili. Anche perché nel tempo questo territorio di attentati e di violenze ne ha subito. Sfondo è una porta aperta, Mimmo, in questo, quindi meglio non prendere questi vecchi ragionamenti però noi guardiamo avanti. E con le azioni che si stanno succedendo nei giorni passati e anche negli ultimi giorni si cerca di recuperare irrecuperabile, diciamo? Assolutamente sì, basti pensare che noi, proprio sulla base di quello che stai accennando noi ci teniamo così tanto all'ambiente che qui a Sibari abbiamo demolito 15 fabbricati abusivi realizzati sul suolo pubblico. Questo fa capire che quando si parla di ambiente, si parla di ambiente a 360 gradi anche sulla tutela delle aree pubbliche. Infatti demolendo questi fabbricati non abbiamo fatto altro che restituire le aree pubbliche ai cittadini. È una cosa bellissima. Un segnale importante e anche un segnale coraggioso per la determinazione di questa amministrazione. Sì, assolutamente. È un segnale molto coraggioso perché noi da quando ci siamo insediati il nostro primo punto è stato quello di mettere all'attenzione la tutela non solo dell'ambiente ma anche della legalità sul nostro territorio. Quindi un segnale forte. Noi siamo stati determinati dall'inizio e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Concludo che voglio ringraziare, per quanto concerne, ritornando due minuti al progetto dell'Associazione Amici per la Terra. Innanzitutto voglio ringraziare l'Associazione Telis. Ci tengo particolarmente perché da quando abbiamo affidato la sala convegni di Sibari dove stamattina ci troviamo e ospitiamo l'Associazione in questo meeting l'Associazione Telis ha fatto un grandissimo risultato. Ma voglio anche ringraziare perché a Sibari abbiamo tantissimi villaggi ma il meeting organizzato dall'Associazione è ospite di un residence posto a Marina di Sibari, il Sibari Residence che voglio ringraziare anche perché ci ha dato una grossa mano anche nella gestione di questo meeting all'interno di questa sala. Quindi un ringraziamento anche a loro, un ringraziamento a tutti gli attori che hanno permesso questo straordinario risultato e questo straordinario evento che si potesse fare a Sibari. Chiudiamo questa serie di interviste con l'autoressa Monica Tommasi che è Presidente nazionale dell'Associazione Amici della Terra. Parliamo di questa magnifica iniziativa che ha scelto Sibari per ospitarla. Sì, è vero. Abbiamo scelto Sibari, un'area ancora più vasta che è il Golfo di Corigliano che è l'area di questo progetto che si chiama Med4BM, un progetto finanziato dal programma NCBC Med e un progetto che coinvolge quattro paesi dell'area mediterranea, l'Italia, il Libano, la Giordania e la Tunisia. E' un progetto, questi paesi hanno lavorato per presentare tutta una serie di dati sulla gestione ecosostenibile delle coste che oggi verranno presentati, oggi e domani, nel corso dell'evento. Quindi c'è qualcosa che li accomuna? Assolutamente sì, ci accomuna le coste, ci accomuna il mar Mediterraneo naturalmente. Ma l'obiettivo principale di questo evento è la presentazione di un forum internazionale del Mediterraneo. Vorremmo creare un forum stabile nel Golfo di Corigliano, quindi in Calabria, in quest'area, proprio per scambiare tutta una serie di esperienze, di progetti, di idee a livello internazionale per la gestione ecosostenibile delle coste. Quindi l'idea è di continuare, di trovare finanziamenti e fondi alla fine di questo progetto per poter continuare a fare un polo, un forum stabile nella Calabria. Quindi possiamo parlare di una iniziativa che tende ad essere itinerante? Sì, ma con un luogo fisso che sarà appunto la Sibarite. La Sibarite è quindi al centro di questo discorso nell'ambito del Mediterraneo e un fatto di orgoglio anche per questa terra che diventerà punto centrale di questo progetto. Assolutamente, abbiamo voluto utilizzare quest'area perché è proprio qui che noi gestiamo le riserve Tarsia e Crati e per cui abbiamo voluto appunto dare questa opportunità, anzi per noi speriamo che sia un'opportunità e che insomma di riuscire a coglierla. La riserva del Crati e Tarsia è una grande risorsa non solo per la Calabria ma a livello generale diciamo sia a livello naturalistico che per la biodiversità che offre. Sì, oggi infatti il nostro direttore Agostino Brusco ha fatto una bellissima presentazione di questa area che è a livello di biodiversità appunto una delle più ricche del Mediterraneo. Ed è fondi di sempre nuove conoscenze, di nuove scoperte che interesseranno un po' tutti. Sì, ma soprattutto l'obiettivo è quello proprio di mettere insieme tutta una serie di dati e informazioni anche da fornire proprio agli stakeholder del territorio proprio per migliorare la gestione di quest'area che è un'area insomma meravigliosa e che ci auguriamo insomma tutto uno sviluppo, lo sviluppo migliore insomma. Grazie dottoressa Tommasi e arrivederci alla prossima. Esattamente, alla prossima. Grazie. Grazie.